Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo episodio del progetto 100TB. Stiamo costruendo un server di archiviazione file, un NAS, un cloud privato, che abbia 100TB utilizzabili. Dico utilizzabili perché saranno di più, però una parte li perdiamo in ridondanze, 100TB utilizzabili. E signori, oggi, senza perderci in chiacchiere, senza rispiegare nulla, perché ho già dedicato il primo episodio a raccontarvi tutta quanta l'architettura, le componenti e le cose varie. Oggi si builda, oggi si costruisce, si assembla. Ho qua una bellissima motherboard che eviterò di toccare con le mani, visto quanto l'ho pagata, e che piazziamo qua in mezzo perché il processore è pronto a saltarci dentro. Allora, 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 è la prima volta che monto un processore Epic, però penso che sia uguale agli altri, non lo so. Scopriamolo insieme. Questo qua è la nostra pizza, questo è il processore che... Guardate le dimensioni, guardate che roba. Non so neanche se questo stencil di plastica verde dovrà restare oppure no. Adesso lo scopriamo, intanto lo appoggio qua. Allora, in teoria bisogna svitare la vite qua, che è una torx. Anche queste due. Ok, lui balza su, perfetto. Tiriamo, forse non dovrebbe succedere così. Ok. Allora, c'è praticamente questo carrellino, ecco, questo è il carrellino che porta il processore. Quindi con tutto lo stencil, yes, lo slidiamo dentro. È pulito? È pulito. Lo slidiamo dentro, la testa in giù, cioè vabbè, con la maniglietta verso l'esterno, poi... Che bello è! Guarda che panino! Lui va giù, poi lui va giù, poi entrambi vanno giù, e poi il bracket, e poi lo ristringiamo. Ah, c'era scritto, apri 3, 2, 1, chiudi 1, 2, 3. Quindi 1, 2 e 3 andavano chiuse, in questo ordine. Va bene, più o meno l'ho fatto, magari le stringo. 1, 2, ok. Ok, al massimo non si accende il computer. Pasta termica, la mettiamo subito? Ma, perché no? E assieme a lei, il dissipatore, che però, essendo molto grande, no, mettiamo prima le robe piccole. Allora, NVMe, che vabbè, va defilato, quindi non sarebbe un problema, però... Ram, che magari veramente metto dopo di lui. Quindi cominciamo da lui. L'ho preso dissipato perché costava meno di quello non dissipato, non so perché. Allora, qua mi dice anche quali viti usare, va bene, ma io vorrei capire... Chi ha la precedenza tra questi due slot? M2 numero 1 e M2 numero 2. Mi sembra ovvio che il numero 1 vada qua. Per il sistema operativo sarà probabilmente sempre una stupida chiavetta attaccata dietro, tanto va caricato una volta in RAM all'accensione del computer. Beh, allora, in realtà se questi slot sono veloci uguali... No, vabbè, lui comunque lo metto sullo slot numero 1, che magari è più figo. Opla, infilato, scende, serve la vitina. Ok, le RAM abbiamo detto dopo perché ho paura di non riuscire a raggiungere il dissipatore. Quindi via col dissipatore. Dissipatore che aveva già la pasta termica. Io sono un fesso che ho speso altri soldi per comprarla a parte, ma va bene. Da quando è quei dissipatori nella pasta termica integrata? Non lo so. Eh, penso la prima volta che compro un dissipatore non liquido. E quello liquido ce l'aveva già preapplicata effettivamente. Guarda, è quella della Noctua ufficiale, è anche buona, mi dicono. Comunque lui, questo coso gigantesco, sarà colui che dissipa la nostra CPU. Ha una sola ventola, solo da questo lato. Vedete che dall'altro non c'è. Adesso non voglio maneggiarlo troppo per non rovinare le lamelle oppure tagliarmi tutte le dita. Allora, immagino che bisogna togliere... Uh, guarda che liscio! Che bello, che liscio! Ok, proteggiamolo dalla polvere ancora un attimo. Pasta termica. A sto punto usiamo la sua. Ce ne va messa abbastanza. Più che altro bisogna riuscire ad arrivare fino ai bordi. Ok, ho chiesto conferma a Mordentech di aver messo bene la pasta termica e mi ha risposto come c***o l'hai messa. Però sì, non è un processore consumer piccolo, un Ryzen sul quale puoi mettere il chicco di riso e che poi quando schiacci si espande. Qua abbiamo una mega superficie, quindi dobbiamo aiutarla a spandersi preparandola già un po' allargata. Quindi adesso, occhio che questo bracket è strano, ci sono due cosi larghi e due cosi stretti tra di loro. Non so, io non ho mai buildato un computer di queste fattezze. Comunque i due cosi larghi vanno da sto lato, i due cosi stretti vanno da questo lato. Ah, ci adagiamo sulla pasta termica. Mi abbocco a mano le viti, giusto per essere sicuri che il tutto non scappi. Eh, sarà difficile lo sbrugolamento qua. Perché normalmente si fa da dietro questo passaggio, però qui si fa da davanti. Uh, yes! Ho trovato a casissimo la brugola giusta. Si procede per viti opposti. Ok, facciamo che tirando qua e tirando qua posso togliere la ventola. Poi ci penso. Eh sì, molto meglio. Ok, dissipatore dissipatorato. Ora diventerà anche la nostra maniglia per il tutto quanto. Però la ventola la voglio da questo lato, quasi quasi. La preferisco da questo lato. Vediamo di riagganciarla. Eccolo qua, direi meglio. Perché semplicemente il cavetto è più comodo, deve arrivare qua sul fianco. Allora, altra cosa che non sapevo è che le schede madri prosumer, come posso chiamarla? Che fascia posso chiamarla? Questa qua si chiama server workstation, quindi sicuramente non è da computer normale. Non ha una CPU fan e un'altra roba fan, ma ha semplicemente delle fan numerate. Quindi qua sul lato, aspetta che vi faccio lo zoomatina. Quindi qua sul lato abbiamo fan 1, fan 2, fan 3, fan 4, fan 5, 6, 7. E più forse altre in giro che non ho voglia di cercare. Quindi, boh, questa roba qua non ha un CPU fan dove andare. La mettiamo semplicemente nella fan 1 e dopo immagino che si impostino le robe dal BIOS. Non lo so. Ecco, diciamo che adesso mettere le RAM forse non è la cosa più comoda. Avrei potuto farlo prima. Vabbè, non rimandiamolo oltre, sono solo quattro banchi, quindi non sfrutteremo tutti i canali della CPU, ma non ci interessa, almeno non per il momento. Questo è un upgrade che potremmo fare in seguito. Ah, si aprono solo da un lato questi? Figo, non lo sapevo. È tutto nuovo per me. Normalmente quando inserisci la RAM in un computer apri i cosettini da entrambi i lati, così quando metti la RAM fanno clunch e si chiudono a bloccarla. Ricordiamo perché questa scelta sulla RAM, intanto per... Non la terrò più in mano. Perché ne sto mettendo 128GB su un computer che deve solo farmi fare accesso ai dischi? Perché useremo ZFS come file system. E ZFS ha una cosa che si chiama ARC, Adaptive Replacement Cache. È una cache praticamente che contiene i file a cui abbiamo fatto accesso più di recente. E per farceli leggere e scrivere velocemente, senza dover andare a leggere e scrivere dei dischi meccanici, che sono un supporto lento, però molto capiente. Però solo la roba che uso più spesso sarà contenuta in una cache che viene fatta in RAM, appunto. La RAM è lo storage più veloce che esista su un computer, a parte le cache della CPU, ma lasciamo perdere. Quindi questa sarà la mia ARC di livello 1. La NVMe sarà la ARC di livello 2. Quindi tutto quello che non ci sta in RAM viene messo nella NVMe. E tutto quello che non ci sta nei RAM né nelle NVMe, niente, sta sui dischi meccanici. E poi, se mi serve, lui se lo va a pescare fuori. In tutto questo, dice Linus Tech Tips che la regola in linea di massima è avere 1 GB di ARC per ogni Tera di dischi. Abbiamo 100 Tera di dischi, quindi 128 GB di RAM. Il fatto che siano 4 e che quindi non usino tutti i canali della CPU non è così un problema, perché tanto lei è cache di dischi meccanici. Quindi il suo bandwidth, la sua larghezza di banda, il suo input-output, principalmente, sarà tirare fuori i dati dei dischi e dopo servirceli quando noi ne abbiamo bisogno. E sicuramente verso i dischi meccanici sono molto più lenti loro. Non è sicuramente la RAM il corno di bottiglia. Verso di noi, siamo limitati da un'interfaccia di rete a 10 GB, al massimo 2 da 10 GB e quindi 20 GB. Al massimo potrò mettere qua, sui tantissimi PCI che abbiamo, 40 GB di scheda di rete con il collegamento a fibra, come si chiamano, SFP Plus mi sembra. Ma comunque 40 GB sono ben lontani dalla larghezza di banda di 4 banchi di RAM. Quindi se fossero stati 128 GB ma spalmati su 8 banchi non sarebbe cambiato nulla. E in compenso così ci restano 4 slot liberi. Casomai un domani volessimo espandere a 200 TB il serverone, potremmo mettere 200 GB di RAM aggiungendo semplicemente nuovi banchi e non dovendo cambiare quelli preesistenti. Abbiamo i nostri slot della RAM, inseriamo i banchetti di RAM, possibilmente dritti, pigio da una parte, pigio in mezzo, pigio dall'altra, fa clink il cosettino bianco là in cima e dopo la finisco di pigiare anche di qua. L'ho messa sugli slot numero A1, B1, lasciando vuoti C1 e D1 e riempendo H1 e G1 ma lasciando vuoti F1 e E1. Insomma il primo e il secondo di ogni gruppo da 4. Ok, tutta sta roba non ci serve più. Bene, allora tutti gli slot PCIe X16, dei quali ne abbiamo 7 esemplari qua sotto, per ora se ne stanno vuoti. Vi ho detto potremmo un domani metterci una scheda di rete 40 GB, potremmo un domani metterci un'altra scheda di rete 10 GB oltre a queste due. Potremmo un domani metterci in caso di aggiunta di nuovi dischi, visto che qui abbiamo due porte mini SAS e ciascuna di esse può reggere 4 hard disk, per ora mi vanno benissimo. Se un domani volessi raddoppiare i dischi metterò una scheda HBA che ho già, che ho già perché la usavo nel vecchio serverone, dipende se la venderò assieme al serverone ma in caso la ricompro. Comunque ci sono queste schede che semplicemente cacci nel PCIe e ti tirano fuori 2 mini SAS o 4 mini SAS o dipende quanti soldi vuoi spendere. Ma prima di tirare in mezzo l'enorme ingombrante case, c'è un'ultima cosettina da aggiustare qua sulla motherboard, questi jumper qua sotto. Perché questa motherboard ha un botto di roba, ancora più roba di quanta perfino un Epic possa gestire e quindi ti fa scegliere cosa attivare e cosa disattivare a seconda di quello che ti serve. In particolare ci sono queste due simpatiche porte che si chiamano Oculink e non ci servono a una mazza, quindi sicuramente loro sono i nostri primi agnelli sacrificali. L'altra gente che si contende le PCIe lanes è il secondo slot di M2 e la PCIe numero 2, questa, che può diventare X8 o X16 a seconda di come configuriamo qua. Vi lascio una foto di quello che dice il manuale della motherboard, ma essenzialmente X è disattivato, cerchio è attivato. Visto che non mi interessano gli Oculink, mi oriento subito sulle prime due righe. Preferisco il secondo M2 o che l'ennesima PCIe, che ne abbiamo mille, sia X16 invece che X8? Chi se ne frega della PCI, tanto ne abbiamo mille, preferisco avere due M2. Quindi il nostro PE8 deve stare sui due di sinistra e va già bene così. Il PE16 deve stare sui due di destra e questo, vediamo se riesco ad estrarlo, hop là, deve andare sui due di destra, meglio così. E questa è fatta. Può andare in un cantuccio e che entri il mastodonte. Allora, questi sono gli accessori. È assolutamente nero, chiuso e anonimo. Nessuno sospetterebbe che qua dentro si celino 100 tera, non ancora, però si celeranno 100 tera. Ah, guarda come si apre. Ah, questo sportello, bellissimo. Vediamo se riesco a mostrare. È tutto così nero. Eccolo qua. Si spalanca una porta anteriore per la manutenzione, penso, non lo so. Però spingendo da qua... Oh, salve! Qui prenderà vita tutto quanto. Ah, e anche sul retro, giustamente. Penso che il materiale di cui sono ricoperti questi pannelli, lo vedete, tipo... È palesemente fono isolante. Questo sarà silenziosissimo. E sono molto contento di non aver preso il case con il pannello in vetro, che era più bello, certo, ma tanto per un server non ci servirà assolutamente niente la bellezza. Però il vetro probabilmente, anzi sicuramente non aveva il materiale fono isolante e quindi noi siamo più contenti così. Allora, vedete che non c'è spazio per i dischi. Perché questa è la configurazione classica. Cavo USB. Questa è la configurazione classica del nostro case. Devo cambiare le carte in tavola. Devo metterlo nella configurazione da storage. La chiama Fractal, l'azienda che lo produce. Questo pannello deve spostarsi in pratica sul lato anteriore. Adesso leggo le istruzioni per capire come. E qui ci sarà tutta quanta la nostra fila di hard disk. O meglio, qua ce ne possono stare tipo 20, mi sembrano, sono tantissimi. E in più, qua c'è scritto pull. Se io pullo qua e pullo là, viene via il tappino. E vedete che sotto in realtà ci sarebbe spazio per altri bov sei. Qua no, perché qua va l'alimentatore. A proposito di alimentatore, non ne ho parlato di lui durante il primo video. Perché non l'ho ancora scelto, non l'ho ancora comprato. Penso che per oggi builderemo il tutto con l'alimentatore mio vecchio. Cioè del vecchio server. Che sono 800 watt, platinum. E boh, è un coso. Allora, in confezione abbiamo già di questi vassoietti da hard disk. Io ne ho comprati mille. Dicevo, devo fare i resi Amazon di tutti quelli che non serviranno. E in più c'è questo pannello, molto, molto fractal, da sostituire eventualmente sopra. Io voglio sostituirlo? Probabilmente no. Adesso vediamo quali ventole vado a montare. Quante sono? Una, due ventole anteriori? E basta? Me ne serviranno di più? Probabilmente no. E una posteriore? Ma sì, va bene così. Tutta polvere in meno. Io cercherei... Eccole le istruzioni. Oltre che mille viti e gommini. Ah, i silent block, ok. Vedete, questo case è la cosa più versatile che esista. Si può fare una build orientata ai serbatoi dell'acqua e del liquido refrigerante. Qui abbiamo un po' di hard disk. Eccolo qua. Server build. Proprio quello che volevo. Guardate quanti ce ne stanno. Quanti ce ne starebbero. Ah, più nei top fan slots. Addirittura, siccome non gli bastavano quelli che sono qua dietro, addirittura nella loro configurazione loro si pensano di mettere degli hard disk attaccati al soffitto qua sul davanti... Non lo faremo, non lo faremo. Non ce n'è bisogno. Eccolo qua, quello che volevo. Converting to storage layout. Ci vediamo tra qualche ora. Ok, più o meno dovremmo esserci. Aspetta che non mi cedo su pezzi di case. Da tutto quello che pesava è diventato una cosa leggerissima perché gli ho tolto tutto attorno. Gli ho tolto il pannello superiore. Gli ho tolto il pannello frontale. Adesso abbiamo le ventole qua che ho un po' allentato in modo che siano libere di muoversi. Le posizioneremo all'altezza giusta in base a dove metteremo i dischi. E niente, è proprio leggerino, leggerino, ma va bene così. Ho scoperto che qua nella parte posteriore alta c'è tutto un pannello per gestire le ventole e l'input-output. Poi lo collegheremo, ma intanto vorrei sdraiarlo a faccia in su. Accessori, stand-off della motherboard per distanziarla. Penso sia un buon momento per trinciare le fasciolette dell'elettricista. Così lei può uscire dall'imballaggio, scendere giù e capiamo dove. Quindi loro due ci sono. Lui c'è, lui c'è. Loro due ci sono. E loro due ci sono. Configurazione standardissima. Cerchiamo di far coincidere il pannello dell'input-output, che è sempre uno schifo. Un tennellotto, una roba. E giù con le viti. Quante le metto? Beh, tutte direi. Appela! E chi la muove più? Bene. Può tornarsene in posizione. Questo non gli pesa troppo addosso. E tutti sono contenti. Un po' meno io, perché adesso inizia la parte del cable management per me. Di attaccare tutti i cavi in giro, che ve lo risparmio perché è noiosissimo. In realtà, qua sul retro abbiamo tutta una matassa di cavi del case stesso, che andranno attaccati alla motherboard. Servono per l'input-output qua anteriore, il pulsante di accensione, quelle robe là. C'è scritto. C'è semplicemente scritto ogni roba dove deve andare. Quindi reset switch per questo qua. HD audio non mi servirà mai, però vabbè, lo attacco lo stesso. Quindi è tutta roba che deve andare sulla MOBO. E questa che porta è? Non sarà mica l'Oculink, no. Sono probabilmente le USB 3.0 o qualcosa del genere. No, queste sono le USB 3.0. Non lo so. Ok, giorno successivo, perché erano le due di notte, passiamo agli hard disk. Allora, abbiamo questi simpatici vassoietti e i gommini sempre in dotazione con il case. Come funziona? Li inserisco nel buco largo, da lì scivolano nel buco stretto dove rimarranno vincolati. E in realtà servirebbe farlo solo sui quattro angoli. Uno, due, tre e quattro. Perché questi saranno quelli dove l'hard disk si va ad avvitare. Vedete che ci sono uno, due, tre e quattro buchi fuori per le viti. Però visto che ho altri gommini in dotazione, li metto anche nel coso centrale. Questa cosa l'ho dibattuta molto con me stesso. Nel senso, non sapevo se mettere anche il cosettino centrale, avevo paura che il disco e il vassoietto diventassero accoppiati in maniera troppo rigida. Però alla fine mi sono detto, sai che c'è il disco comunque pesa, dovrà rimanere lì per degli anni. Siccome la gomma magari un po' va a schiacciarsi sotto il peso del disco, ne metto una in più. Anche se il tutto è un po' meno elastico ad assorbire le vibrazioni, comunque meglio così. Perché sono in sei gommini e si suddividono in sei il peso del disco, invece che in quattro. Poi in dotazione abbiamo anche queste simpatiche viti. Una, due, tre e quattro. Magari le abbocco a mano, eccola qua, così ho più sensibilità. E poi le stringo col cacciavite, ma non le stringo in realtà. Le porto solo a fine corsa, senza stringere, perché così la gomma sarà libera di gommare, di ammortizzare. Detto questo, abbiamo un disco accoppiato in maniera un po' molla al vassoietto. Come funziona adesso l'inserimento? Allora guarda, ve lo inquadro qua da dietro. Abbiamo sul nostro vassoietto, qua dietro una vite da vitare a mano, che sporge sul lato. Mentre qua in cima c'è questo piccolo piede, questo gancetto, e una roba che sporge solo per fare da secondo aggancio. E essenzialmente questi devono andare a inserirsi il piede qua e l'aggancino qua. Vediamo se ve lo riesco a mostrare. Allora, lui scivola lì dentro, ok? Una volta che lo sento agganciato, inserisco anche il secondo. E una volta che entrambi quelli in fondo sono giù, posso avvitare la vite qua in cima. E ripeto, è lo stesso procedimento. Per tutti è sette i dischi che mi sono già preparato attaccati ai vassoietti, come un bravo Giovanni Mucciaccia li tiro fuori già pronti dal tavolo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Non penso di avervi ancora spiegato perché sette dischi, che numero strano. Allora, in realtà perché volevo 100TB utilizzabili. E sette dischi per 16TB fanno 112TB, che quindi saranno 98TB utilizzabili. A differenza di quanto si legga su qualche forum, non c'è nessun beneficio ad avere un numero pari di dischi invece che dispari. Non cambia niente. Inoltre sette è un buon numero perché se un domani dovessi espandere il serverone, per forza raddoppiando il numero di dischi, perché non posso aggiungerne quanti ne voglio, ma bisogna per forza aggiungere un altro VDEV, quindi raddoppiare i dischi, diventano sette quattordici che ancora mi stanno nei case, ma forse anche ventuno mi starebbero. Va bene, a lavoro! Poi dal retro ci attacco subito i cavi SATA, che sono numerati, quindi 0, 1, 2, 3, e dall'altro 0, 1, 2. E non rimane che installare l'alimentatore e portare i cavi della corrente dappertutto. Ok, allora, lo vedete chiuso con un po' di ditate che poi pulirò? Lo vedete chiuso solo perché ho finito. Signori, ho finito! Sul davanti, sul retro c'è il trucco, nel senso che c'è questo alimentatore penzolante perché non erano abbastanza lunghi i cavi, devo comprare il nuovo alimentatore dedicato a lui, anche perché guardate quanto piccolo è questo alimentatorino rispetto al case. Non c'entra nulla la dimensione, però facciamo le cose fatte bene, ne compro uno con tutte le prolunghe del caso, così abbiamo i cavi che vanno in giro. Tra l'altro già da questo comunque ero riuscito a recuperarmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutte quante le alimentazioni SATA. Ce n'era pure una ottava per collegare un eventuale SSD da mettere da qualche parte. Quindi in realtà c'era tutto, tranne la scheda video. Mi servirà una piccola scheda video qualsiasi, me la farò prestare, giusto per il primo avvio, per entrare nel BIOS e fare qualcosa. Non penso che... no, non ha una scheda video integrata, il nostro processore. Qui avremo... non so perché hanno messo dei VGA, ma tanto non ci servono a niente perché il processore non ha la scheda video integrata, ovviamente. E quindi giusto per settare due robe nel BIOS, la velocità delle ventole e controllare che veda tutti i dischi, proprio 10 minuti. Ma questo sarà configurazione software che avevo detto sarebbe stato il terzo episodio. Quindi per oggi ci salutiamo qua. È completo, è fatto, è lui. Ah, alla fine non ho collegato niente al nostro hub di ventole qua del case perché tanto sulla motherboard ho già 7 header, quindi per 4 ventole sono più che sufficienti. Mi risparmio di dover gestire una roba esterna con i suoi driver o non so come sarebbe stato gestito. Faccio tutto in casa, sulla mia motherboard. Pollice in su al video, se il video vi è piaciuto signori. Poi aspetta, così non li vedete. Così sì! Pollice in su, ciao a tutti!